la prima crociata sto rifacendo un po tutta la storia medievale dall'anno 1000 in poi e mi sono reso conto che avevo già fatto una video lezione su questo argomento ma non importa è un argomento che mi piace molto e quindi mi piace anche affrontarlo con voi in una diretta live ecco le crociate le crociate chiamiamo così per via dei cruci segnati i quelli segnati con la croce che sarebbero i cavalieri cristiani medievali che usavano magari appunto il simbolo della croce sulla loro tunica con la tunica che si trovava magari sopra l'armatura e quindi per questo motivo così sono stati chiamati ci riferiamo effettivamente quelle guerre che sono state combattute dai popoli europei contro i musulmani dal secolo undicesimo quindi dal 1095 96 dopo cristo fino al secolo quattordicesimo quindi fino al 1300 con l'intento di liberare il santo sepolcro sotto la bandiera della croce e sotto la direzione del papato nel senso che è stato proprio il papa il papa urbano secondo adesso vedremo nel concilio di clermont ferran nel 1095 a spingere i cristiani ad andare in oriente in terra santa a liberare questo santo sepolcro effettivamente questo va in parallelo con una sorta di espansione dell'occidente l'occidente europeo infatti nei popoli prima del 1000 ha dovuto subire le invasioni dei popoli barbari e anche le scorrerie di saraceni ungari e normanni ungari e normanni sono stati ormai perfettamente inglobati all'interno dell'orizzonte dell'occidente cristiano e saraceni incominciano a indietreggiare quindi anche il califato di cordova piano piano vede rosicchiare delle zone delle regioni prima nella spagna del nord e poi man mano verso il centro si tratta della cosiddetta reconquista reconquista chiamiamola così in italiano dei popoli cristiani nella penisola iberica di territorio appunto nella penisola iberica erano stati respinti indietro le forze islamiche erano arrivate fino ai pirenei e magari anche oltre i pirenei come ben sappiamo al tempo di carlo magno adesso invece incominciano a ritirarsi gli europei cominciano a reagire più energicamente riguadagnano il terreno perduto affrontano l'islam addirittura nei luoghi medesimi dove è nato e dove poi si è radicato qualcuno ha parlato addirittura di una sorta di prima colonizzazione europea del medio oriente per esempio proprio in occasione di queste crociate sono vari motivi le cause che spingono i cristiani a muoversi anzitutto una causa di tipo religioso come stavo spiegando il papa che ha chiamato tutti a a questa come dire riconquista di questi luoghi detti santi perché sono i luoghi dove era vissuto cristo l'iniziatore appunto del cristianesimo poi ci sono però anche altri elementi elementi sociali per esempio da parte di chi è povero e magari cerca come dire riscatto in oriente oppure di chi è cadetto cavaliere e cerca cerca gloria in oriente e poi causa economiche le cause economiche diventeranno sempre più importanti e preponderanti a partire soprattutto dalla quarta crociata infatti dobbiamo anche spiegare che questo è il periodo in in cui incominciano a dominare in mare mediterraneo le città marinare italiane pisa genova pensate la sardegna che è già diventata un terreno di conquista per loro la sardegna la corsica l'africa la sicilia ovviamente poi quando parliamo di sicilia ci vengono in mente i normanni ecco infatti la riconquista anche della sicilia da parte dei normanni sottratta quindi anche lì ai saraceni agli arabi rappresenta un altro tassello di questa espansione dell'occidente attraverso queste imprese si ricostituisce nei popoli europei la coscienza di una loro superiorità si alimenta la speranza e la visione di una sorta se vogliamo di imperialismo di espansionismo a vari livelli e si avvia appunto questa crociata anche per via di di una circostanza di una contingenza che la favorisce questa contingenza sarebbe appunto il l'arrivo nella zona del dei turchi allora alla metà del secolo undicesimo gli stati arabi sorti attorno al califato di bagdad questi qua per esempio che vediamo in questa cartina ad esempio il califato maiade qui lo potete vedere nella sua massima estensione erano stati sopraffatti invece dai turchi che erano arrivati a esautorare questi califi precedenti hanno occupato bagdad i turchi nel 1058 si sono impadroniti delle regioni delle regioni asiatiche occidentali arabe bizantine arrivando addirittura a minacciare bisanzio che però sappiamo anche per la sua collocazione proprio in quella zona lì dello stretto del bosforo risulta molto difficile da conquistare nel 1071 i turchi hanno occupato anche l'anatolia quindi la penisola anatolica vuol dire l'attuale turchia quasi totalmente quasi interamente nel 1076 occupano damasco e così appunto occupando damasco si assicurano il possesso della siria e della palestina sicuramente anche gli europei ascoltano queste notizie vengono a sapere di questa espansione dei turchi con grande preoccupazione hanno paura di essere ancora una volta oggetto di invasioni da parte di popoli stranieri questa volta appunto da parte dei turchi ecco gregorio settimo il famoso gregorio settimo abbiamo già visto la lotta per investiture contro l'imperatore enrico quarto che anche il fautore di una sorta di riforma della chiesa nel 1073 si era rivolto scusate aveva intracciato nuovamente rapporti con l'imperatore di bisanzio nel 1053 quindi esattamente venti anni prima si era verificato uno scisma una forte divisione uno stacco netto fra oriente e occidente passarono solamente 26 anni quando l'imperatore di bisanzio si rivolse al papa gregorio settimo l'imperatore allora si chiamava michele settimo forse chiedendo aiuti proprio al papa all'occidente perché addirittura promettendo di riconoscere il primato papale quindi come se c'è stato un momento in cui addirittura forse questo scisma poteva essere rinsaldato questa divisione ecco allora che il papa penso a un'azione in asia minore già il papa gregorio settimo quindi prima di urbano secondo aveva pensato a un'azione di questo genere per esempio per avvenire in soccorso della dell'impero di bisanzio che comunque continuava a essere un impero romano così si autodefinivano e consideravano i bizantini i veri e propri successori dei romani quello era l'impero romano romano d'oriente una volta c'era l'impero romano d'oriente e anche quello d'occidente ormai da secoli e secoli quello d'occidente era accaduto ma quello d'oriente era rimasto addirittura che il papa pensava di poter guidare un non so un esercito cristiano comunque indurre i principi cristiani a venire in soccorso dei bizantini la i pellegrini che si trovavano a gerusalemme i pellegrini cristiani ecco che generalmente erano stati accolti anche con grande benevolenza o tolleranza chiamiamola così appunto da questi califi omaiadi incominciano a trovare delle difficoltà addirittura uno di questi turchi rase al suolo la chiesa del santo sepolcro solo che quello che succedette poi favorì la ricostruzione di questa chiesa del santo sepolcro quindi dobbiamo pensare anche ai turchi non tutti così come non so insensibili o duri origini nei confronti dei cristiani sta di fatto che comunque la situazione per i cristiani cominciava ad essere un pochettino difficile i cristiani che erano in terra santa e ce ne erano tanti anche nell'oriente in generale appunto sotto gli omaiadi erano rimasti molti cristiani di riti particolari il rito siriano il rito armeno e allora si creano le condizioni perché l'occidente sia in fermento su questo aspetto ora nel 95 dopo cristo già si tenne un concilio a piacenza in cui qualcuno incominciò a proporre proprio un'azione un po più determinata verso l'oriente per per difendere insomma i cristiani che li erano rimasti e in quello stesso anno quindi sempre nel 1095 poi si riunì un altro concilio a clermont ferran arrivarono degli ambasciatori dal nuovo imperatore di basa di bisanzio che si chiamava alessio comuneno uno anche il papa era cambiato abbiamo detto che era urbano secondo e non più gregorio settimo quindi il papa prima si recò a piacenza e poi indisse per il 18 novembre di quello stesso anno quindi del 1095 un concilio a clermont ferran sicuramente per la riforma della chiesa francese ma c'era quest'argomento scottante sul tavolo quello delle tensioni in oriente e allora così nell'ultima sessione quella del 27 novembre del 1095 il papa sulla pubblica piazza invitò i cristiani ma i cristiani tutti principi senz'altro ma non solo a intervenire in oriente i principi dovevano accettare la pace di dio non combattersi più fra di loro e rivolgere le armi contro i nemici della fede dovevano riscattare il santo sepolcro liberare la cristianità d'oriente dagli oppressori probabilmente urbano secondo pensava solo ad appoggiare l'imperatore di bisanzio cioè non pensava effettivamente questi principi dovessero arrivare addirittura fino a gerusalemme anzi magari il suo sogno era quello di ricostituire l'unità delle due chiese quindi della chiesa occidentale cattolica e di quella orientale ortodossa contrastare i turchi però non immaginò minimamente come queste parole che lui aveva pronunciato nella pubblica piazza di clermont ferrat avessero infervorato gli animi di tutti dai poveri dicevamo i rustici quindi contadini fino ai cavalieri e ai signori grandi signori a partire per l'oriente deus lo vult si gridò allora in un latino francesizzato francese arcaico medievale dio lo vuole e questo sicuramente ci aiuta a riflettere su uno degli aspetti più strani e controversi di questo fenomeno delle crociate infatti noi dobbiamo sapere che di per sé il cristianesimo invita a porgere l'altra guancia tanti cristiani avevano perso la vita perché avevano rifiutato di compiere il servizio militare sotto l'impero nei primi tre secoli e quindi risulta davvero strano che si arrivi a questo dobbiamo almeno almeno accennare però al pensiero di sant' agostino che vive già in un periodo diverso un periodo successivo alle persecuzioni un periodo in cui ci sono le minacce dei barbari appunto per la prima volta infatti lui vide il sacco di roma del 410 come qualcosa di sconvolgente di drammatico riteneva infatti che l'impero potesse garantire l'ordine la pace e proteggere la civiltà la cultura e anche la religione cristiana per questo motivo in alcuni dei suoi testi lui parlò di bellum justum cioè di una guerra giusta una guerra da combattere non per espansione ma per difendersi per garantire l'ordine per proteggere attenzione però il pensiero di sant'agostino come in generale quello del cristianesimo non può essere così facilmente semplificato agostino per esempio a uno a un soldato che gli chiedeva se fosse peccato come lui pensava a uccidere i nemici diceva che continuava a essere a non piacere a dio insomma che uno facesse proprio quel mestiere lì il mestiere del soldato però come vi stavo spiegando ha incominciato a giustificare la guerra una guerra giusta più o meno come la intendiamo noi con commissioni di peace keeping diciamo per garantire la pace poi però appunto in quel secolo la ricordate ho fatto accenno la reconquista reconquista spagnola ho fatto accenno alla conquista della sicilia da parte dei normanni cristiani a danno degli arabi che avevano occupato la sicilia per i secoli nei secoli precedenti si crea un clima tale anche sicuramente una giustificazione ideologica della guerra che poi giunge a compimento ecco proprio con le parole di urbano secondo oltretutto urbano secondo lì nella pubblica piazza disse non disse solamente andate a riconquistare a liberare quantomeno i luoghi sacri ma disse anche che erano perdonati i peccati e le impurità di chi moriva di chi sarebbe morto insomma nel pellegrinaggio armato appunto alla volta di gerusalemme per liberare gerusalemme diciamo che questo è un primo passo per quella che poi possiamo definire così anche qui semplificando enormemente diventò la guerra santa cioè una guerra giustificata diciamo dalla religione a questo proposito dobbiamo dire che la bibbia è anche questo è un testo molto complesso e contiene in sé come ben sappiamo l'antico e il nuovo testamento e mentre se nel nuovo testamento il comandamento che prevale è quello dell'amore invece nell'antico testamento sono frequenti le guerre il popolo eletto il popolo scelto da dio il popolo di yahweh invoca dio che lo difenda dai nemici e che anche armi le mani insomma degli ebrei contro i nemici che occupano una terra che gli ebrei consideravano loro peccato che si trattava di una terra che per secoli era stata occupata da altri popoli e questo un po un concetto quello dell'antico testamento di dio che sta dalla parte del nostro esercito dio il signore degli eserciti addirittura si dice nella nell'antico testamento è un concetto che si sposa meglio con la concezione dell'islam del corano rispetto a quella del nuovo testamento che invece risulta veramente come dire divergente rispetto a questo pensiero dominante nell'antichità mi riferisco in particolar modo ai passi del corano in cui si dice che è giusto e corretto difendersi dagli oppressori dagli infedeli e forse in alcuni passi però piuttosto controversi bisogna dire addirittura si giustifica una guerra contro gli infedeli anche qua dobbiamo però cercare di evitare qualsiasi tipo di generalizzazione il messaggio infatti del corano è essenzialmente un messaggio di pace e lo stesso termine jihad il jihad significa più sforzo sforzo di adeguarsi alla volontà di dio piuttosto che guerra santa così come la interpretiamo noi occidentali moderni contemporanei comunque sta di fatto che con questo discorso di urbano secondo si crearono veramente i presupposti per una partenza oserei dire quasi spontanea immediata di orde e orde di cristiani alla volta dell'oriente partirono dalla spagna partirono dalla francia più delle volte passarono dalla germania e andarono tutti a piedi sia questi pezzenti della famosa crociata dei poveri crociata dei pezzenti sia i signori che si spinsero fino all'oriente passarono dalla germania e passando dalla germania avvennero delle cose che non erano mai accadute prima ci riferiamo alle persecuzioni contro gli ebrei gli ebrei erano sempre stati i fratelli nella fede in dio nel dio unico nel dio dell'antico testamento appunto anche per i cristiani per secoli e secoli e solo in questo periodo che viene fomentato l'antisemitismo anche da alcuni predicatori fino ad arrivare ai massacri di spira di worms e quello più famoso di metz quando passarono appunto i crociati verso l'oriente e scatterano la loro furia anche verso gli ebrei benché non dovesse essere quello assolutamente il il target il bersaglio l'obiettivo della della loro crociata veduto l'entusiasmo destato della sua parola urbano venne stabilendo i principi fondamentali della crociata anzitutto il giuramento di partire considerato come inviolabile sotto pena di scomunica la chiesa assunse l'impegno di proteggere la famiglia e i beni dei crociati se quindi il crociato il soldato lasciava una famiglia la chiesa si impegnava a proteggere la sotto la moglie i figli e i suoi beni come stavamo spiegando prima vengono rimesse le penitenze che sono imposte generalmente ai fedeli per i peccati commessi quindi prima stavo parlando di impurità certamente macchiarsi del sangue anche se il sangue di un nemico rappresenta un'impurità nel medioevo ma non solo il concetto del sangue come qualcosa di impuro era ben presente ma tutto questo veniva cancellato nel momento in cui uno partiva per la riconquista della della terra santa la santa sede aveva come suo rappresentante nella spedizione a demar de montael vescovo di puy uno dei primi a giurare appunto il giuramento della partenza dei crociati fu indetto il ritrovo dei crociati a costantinopoli la partenza fu stabilita per il 15 agosto del 1096 dal 95 al 96 il papa peregrinò per la francia meridionale predicando la riforma ecclesiastica quella sulla scorta dicevamo di quella gregoriana di gregorio settimo e poi anche la crociata rientrò a roma urbano secondo nel dicembre del 1096 un anno circa dopo la sua proclamazione chiamiamola così dopo aver visitato anche tante città dell'italia settentrionale asti pavia milano cremona la predicazione della crociata in italia era già cominciata prima ancora che arrivasse il papa dalla francia il papa aveva scritto al comune di genova perché fosse allestita una flotta una in appoggio della spedizione ma come abbiamo detto nella prima crociata generalmente i crociati andarono a piedi in oriente mentre è dalla seconda in poi che le città marinare si impegnano proprio anche nelle spedizioni navali di trasporto dei crociati nel luglio agosto del 96 boemondo d'altavilla giurò di prender parte alla crociata e lasciò l'assedio di amalfi boemondo d'altavilla era un signore normanno che stava assediando amalfi era una città marinara indipendente lascia questo assedio per partire e così come lui altri signori ma non re o imperatori come invece avverrà il secolo successivo nelle prossime crociate di cui parleremo la seconda la terza e troveremo tanti re ricaducor di reone il re santo luigi il santo o imperatori come il federico barbarossa nel frattempo in francia in germania sud occidentale turbe di uomini degli strati più bassi si riunirono intorno a pietro l'eremita e a gualtieri senza avere gualtieri senza avere gualtieri senza averi era uno di questi signori che appunto non avevano un loro feudo un loro terreno e quindi partirono alla volta dell'oriente solo che gualtieri a differenza di tutti gli altri non si accodò non aspettò la crociata appunto dei signori la crociata dei potenti ma andò subito dietro alla crociata dei pezzenti quindi dietro a pietro a pietro l'eremita spinti da un'esaltazione religiosa senza senza fine volerò attraversare il bosforo avanzare verso nicea andarono addirittura questi pezzenti che furono accolti a costantinopoli a varcare il bosforo cioè si stanziarono nella parte asiatica diciamo di costantinopoli della odierna istanbul e poi andarono verso nicea ad attaccare nicea una città dell'anatolia molto vicina a costantino a costantinopoli la ricorderete perché si è svolto il concilio di nicea no il primo concilio della chiesa intorno al 325 solo che proprio lì a nicea i turchi che erano già presenti già lì in zona reagirono e si trovarono di fronte un esercito diciamo non regolare questo esercito della crociata dei poveri e così come era avvenuto in ungheria dove era passata questa crociata dei poveri avevano anche razziato e saccheggiato perché non erano organizzati non avevano le salmerie cioè ad esempio quindi delle cucine che li accompagnavano e quindi quando andarono in ungheria a razziare a saccheggiare così come fecero appunto a nicea furono poi trucidati in ungheria fu dimezzato fu decimate insomma la crociata dei poveri mentre lì a nicea fu veramente distrutta definitivamente questa questa è un'illustrazione che mostra la sconfitta della crociata dei poveri a si boemondo di altavilla e tancredi di altavilla senz'altro quindi signori dicevamo dei normanni che partono per la crociata non il grande re però né dei normanni né di altri stati grandi stati europei né tantomeno l'imperatore andarono in oriente ma questi signori minori chiamiamoli così quindi grandi stragi abbiamo detto distrussero totalmente fermarono definitivamente la crociata dei poveri la crociata dei pezzenti una pagina di storia che vide quindi questi poveri e pezzenti essere i primi a perseguitare gli ebrei nelle città di spira worms e metz in germania loro stessi saccheggiatori alla fine subirono però le conseguenze nel senso che furono totalmente distrutti a questo punto partì la crociata dei principi ecco questa è un'altra illustrazione che è quella che mostra il massacro degli ebrei di metz durante la prima crociata ricordiamoci quindi che qua siamo alle origini dell'antisemitismo proprio da un punto di vista anche della persecuzione violenta che non c'era stata nell'europa medievale fino a questo momento questi sono anche i tempi in cui viene scritta la chanson de roland giusto per farvi capire come erano infervorati in questo periodo contro gli infedeli in genere e ritenevano ebrei anche loro diciamo tra virgolette infedeli o quantomeno dei cidi ecco come giustificarono nella loro visione ideologica il massacro di metz ecco abbiamo detto però che adesso incominciarono a partire i principi come potete vedere da questi percorsi intrapresi da questi eserciti si trattò quasi esclusivamente di percorsi via terra solo per poche furono le eccezioni di soldati principi comandati da principi che fecero però solo brevi tratti per via mare per raggiungere costantinopoli dove come vi ho già spiegato c'era il raduno cioè c'era l'appuntamento dove appunto dovevano trovarsi i crociati tutti quanti quindi soprattutto i principi abbiamo detto questa crociata dei principi fu più lenta meglio organizzata i tedeschi i francesi gli italiani si accordarono anche con la santa sede nei vari paesi i crociati si raccolte raccolsero attorno ad alcuni principi nella regione renana per esempio ci fu un principe importantissimo che goffredo di buglione era un duca di una zona la bassa lorena che oggi come oggi si trova nel belgio ed era il comandante supremo divenne comandante supremo della spedizione e quindi anche il primo re del regno di gerusalemme poi c'era suo fratello baldovino baldovino di francia e loro passarono attraverso il danubio probabilmente si tratta di questa via verde ecco la morava un altro fiume a loro si aggiunsero ugo di vermando a stefano di blu a roberto di normandia e roberto di fiandra quindi a parte roberto di fiandra che può sempre in quella zona in quella regione più o meno dei paesi bassi gli altri erano signori francesi attraversarono le alpi alcuni raggiunsero brindisi fecero un'altra strada per esempio dalla francia qui potete vedere queste strade questa viola e questa azzurra azzurrina di soldati che arrivarono a brindisi e quindi salparono verso durazzo e comunque verso la grecia per un breve viaggio via mare per poi terminare il loro percorso verso costantinopoli via terra poi ancora altri signori si legarono a loro come per esempio ademar de montailles e raimondo di tolosa eccolo qua raimondo quarto di tolosa quindi anche dalla spagna giussero parecchi signori attraversarono l'italia l'italia settentrionale poi proviamo a vedere questi percorsi spagnoli eccola col tolosa però è in francia e nella francia meridionale poi si può dire quasi al confine una zona quasi pirenaica ma è ancora francia non è non è spagna attraversarono quindi le alpi e si ricongiunsero con gli altri eserciti e poi come stavamo dicendo i normanni guidati da boemondo e dal nipote tancredi nell'aprile del 1097 tutti giunsero a gerusalemme alcuni parlano di decine decine di migliaia altri si spingono a parlare di centinaia di migliaia di soldati guidati da questi principi che raggiunsero costantinopoli e furono accolti perché così volevano gli accordi fra oriente e occidente ma veramente come dire con un po di diffidenza questo è l'imperatore bizantino alessio primo comneno anna comnena che penso sia sua figlia scrisse una sorta di diario appunto in questo diario lei come dire dipinse rappresentò i crociati che giunsero a costantinopoli come persone molto rozze che abusavano dell'ospitalità che loro sì che erano i civilizzati bizantini stavano offrendo loro comunque sta di fatto che i crociati si misero d'accordo tranne uno di loro e promisero quindi all'imperatore bizantino alessio primo comneno che sarebbero stati i suoi vassalli si sarebbero creati dei feudi quindi dei nuovi regni in oriente e questi sarebbero stati tutti regni come dire sudditi ecco dell'impero romano d'oriente tranne vi dicevo uno di questi signori un normanno che non fu molto d'accordo con questo patto partirono quindi i crociati e si volsero esatti i crociati principi signori e si volsero verso nicea esattamente come avevano fatto un anno prima circa i pezzenti i poveri che poi erano stati respinti così violentemente e nicea fu assediata e fu conquistata dopodiché dopo nicea si diressero verso altre zone dell'anatolia in particolar modo ci fu una battaglia importante presso l'antica città di dorileo quindi 14 maggio a nicea riprendono la marcia il 28 giugno e il primo luglio si scontrano con i turchi presso l'antica città di dorileo qui scritta dorileum alla latina furono attaccati dalla cavalleria turca dei turchi seggiuci di ma l'intervento della colonna agli ordini di goffredo di buglione di raimondo di tolosa ugo di vermandois e roberto di fiandra a sostegno della prima colonna guidata da boemondo d'altavilla roberto di normandia e stefano di blois portò le milizie dei crociati cristiani alla vittoria contro i turchi dopo la presa di nicea e la battaglia vittoriosa di dorileo i bizantini continuarono perché anche c'è l'imperatore di bisanzio aveva promesso anche un suo appoggio alla spedizione dei crociati ed effettivamente diede loro un corpo piccolo una piccola parte del del suo esercito agli ordini di un generale più importante generale bizantino dell'epoca che si chiamava taticcio nel frattempo alessio comneno approfittava dell'incertezza dei capi turchi abbastanza sorpresi dall'arrivo di queste orde insomma di cristiani per rioccupare le coste anatoliche che erano state prese dai turchi nei decenni precedenti a questo punto si arriva a uno degli eventi più sanguinosi sanguinosi cruenti di questa prima crociata che è l'assedio di antiochia arrivano nei pressi di antiochia intorno al 20 ottobre del 97 si trattò di un assedio lungo molto faticoso molto duro e quando fu presa la città di antiochia si assistette a una vera e propria strage e dovete sapere una cosa che ad antiochia c'erano molti cristiani erano i cristiani siriani cristiani di rito siriano di cui vi stavo parlando prima ebbene per i crociati occidentali non si faceva distinzione fra i siriani musulmani e i siriani cristiani questa è una dimostrazione di ignoranza ma del resto c'è un famoso scrittore siriano del dell'epoca noi abbiamo letto un brano in un video su youtube che si chiama anche usama quindi con una certa assonanza con un signore insomma un po più vicino a noi nella storia che ci descrive questi crociati soprattutto i franchi come persone molto roze che non conoscono diciamo anche i rudimenti della medicina per esempio la medicina greca quella di galeno ben conosciuta dagli arabi dai siriani in oriente è un po dimenticata invece in occidente ecco antiochia godeva la fama di una città inespugnabile ed effettivamente era c'erano delle mura straordinarie ah sì tanto baldovino si era recato ad edessa dove un governatore armeno toros lo accolse adottandolo come figlio ed erede e quindi baldovino divenne tra virgolette re di edessa in una maniera decisamente meno cruenta rispetto alla conquista di antiochia di cui vi stavo parlando prima abbiamo detto che si trattò questo assedio durò per tantissimo tempo allora ci furono alcuni momenti nel corso di questo assedio importanti per esempio l'arrivo di una flotta genovese a sostegno dei crociati e il tradimento il tradimento di un certo firuz a cui era stata affidata una torre delle mura di antiochia era un armeno rinnegato che favorì l'entrata qui la potete anche vedere più o meno raffigurata in questo dipinto l'entrata la salita insomma con una scala dei soldati crociati all'interno della città i crociati hanno promesso a questo tale firuz di ricompensarlo di farlo diventare addirittura signore di antiochia in realtà poi quando entrarono dentro la città massacrarono tutti probabilmente massacrarono anche questo tale traditore firuz e poi insomma si presero loro il potere di questa di questa città boemondo boemondo d'altavilla fu disegnato all'inizio come signore d'antiochia ma c'era anche raimondo di tolosa e qui cominciarono i primi scontri all'interno dell'esercito cristiano all'interno dell'esercito dei crociati a dimostrazione di come molti di questi signori si erano mossi per ambizioni personali non certo per motivazioni così religiose a questo punto infatti alcuni dissero qui la crociata rischia di fallire anche per queste scaramucce interne per queste tensioni interne all'esercito dei crociati comunque dopo che antiochia fu conquistata alcuni tornarono in europa addirittura è anche disgustati da come si era svolto l'assedio e soprattutto poi la conquista di antiochia fu merito di raimondo di tolosa però salvare la spedizione infatti come protesta contro le tendenze conquistatrici degli altri principi riprese da solo il viaggio verso la terra la terra santa la città santa di gerusalemme e il suo esempio fu disprone agli altri aveva assediato arca presso tripoli insomma comunque questo suo esempio l'esempio di raimondo di tolosa indusse goffredo di buglione tutti gli altri a raggiungerlo siamo nel maggio del 1099 quando nuovamente tutti o quasi tutti i principi cristiani tranne quelli che si sono insediati già abbiamo detto a edessa o ad antiochia si riuniscono sono in marcia verso gerusalemme una marcia da tripoli a gerusalemme si intende però tripoli non della tripolitania quindi una città sempre della regione del medio oriente i due sultani sultani di aleppo di damasco nel frattempo che erano in lotta fra di loro non opposero nessuna resistenza all'esercito dei crociati i turchi si chiudevano nelle varie città intimiditi dal pericolo europeo che veniva dal nord e anche dal periodo dal pericolo arabo egiziano che veniva da sud sì perché anche i musulmani non erano uniti fra di loro e allora ce n'erano alcuni che erano tra l'altro di religione sapete che ci sono i sunniti e gli sciti turchi erano sunniti invece all'epoca non adesso ma a quell'epoca gli egiziani erano sciti e quindi pensarono di sfruttare l'arrivo anche di questi crociati per arrivare a gerusalemme gli arabi egiziani sciti infatti gerusalemme nel 98 fu occupata da un presidio egiziano per un momento era parso addirittura che tutta la palestina dovesse ritornare ai califi del cairo che erano quelli che erano stati sconfitti dai turchi quindi un po come come aveva fatto aveva fatto l'imperatore d'oriente l'imperatore bizantino alessio primo com neno anche i califi egiziani cercano di sfruttare l'arrivo dei crociati per ribaltare quanto era avvenuto qualche decennio prima quando i loro territori erano stati conquistati dai turchi ma il 7 giugno del 1099 i crociati comparvero a gerusalemme e ci fu un assalto alla città di gerusalemme con l'aiuto anche in questo caso dei genovesi che erano sbarcati a giaffa con le loro navi e avevano provvisto il necessario per costruire le macchine d'assedio ovviamente ci vengono in mente le ottave e i canti della gerusalemme liberata di torquato tasso quando appunto quando pensiamo alla prima crociata oppure l'opera lirica di giuseppe verdi i lombardi alla prima crociata sta di fatto che effettivamente un po come in modo romanzato ecco racconta torquato tasso il possesso delle giuste macchine da guerra come possiamo vedere anche in questa illustrazione permise ai cristiani di entrare nella città tra il 14 e il 15 giugno del 1099 di occuparla di occupare la città di gerusalemme e di massacrare tutti i musulmani e magari come vi ho spiegato già anche qualche cristiano arabo cristiano diciamo della del territorio come già era avvenuto ad antiochia l'esercito arabo anche quello giunto dall'egitto alla fine di luglio fu sconfitto ad Ascalona dove ci fu una battaglia decisiva possiamo dire il 12 agosto i cristiani sconfissero anche gli arabi egiziani e quindi crearono il regno di il regno di gerusalemme goffredo di bollone fu chiamato l'avvocato del santo sepolcro e nel 1099 in maniera molto gloriosa insomma divenne re di gerusalemme peccato che poi per malattia morì poco dopo e fu sostituito dal fratello baldovino che assunse il titolo di re dopo di lui e poi si succedettero ancora altri re per quasi 100 anni fino a quando non arrivò il Saladino che riconquistò gerusalemme capo religioso dei crociati fu Arnul de Rohe che si disse patriarca di gerusalemme eccolo qua l'assedio di gerusalemme come rappresentato in un'altra illustrazione in un manoscritto medievale ecco a questo punto la situazione si presenta così vedete che sono stati creati dei regni dei principati il principato armeno di Cilicia la contea di Edessa il principato di Antiochia la contea di Tripoli ecco la vedete dov'è la Tripoli insomma Tripoli di Siria qui facevo accenno prima è il regno di Gerusalemme che si estendeva a nord fino a San Giovanni d'Acri anzi ancora più a nord fino alla zona del Libano alla regione del Libano Tiro eccetera e qui potete vedere anche dove si trova a Scalona dove ci fu questa battaglia decisiva e invece come vedete nella penisola del Sinai si estendeva fino alla penisola del Sinai si estendeva il califato Fatimide del Cairo quindi si trattava comunque lo possiamo capire anche da questa cartina di una serie di regni principati compreso poi c'è l'impero bizantino che come abbiamo detto ha riconquistato Efeso Smirne cioè tutta la costa dell'Anatolia che si affaccia sul mare Egeo quindi dell'estremità occidentale dell'Anatolia e aveva riconquistato Cipro anche qua insomma come ben sapete una vicenda anche questa secolare quella della contesa di Cipro fra Greci e Turchi come potete vedere però questi regni si trovano un po' circondati dal Sultanato di Iconio dall'Emirato di Damasco e appunto da questo califato Fatimide del Cairo cioè in buona sostanza abbiamo molta inquietudine nei principi musulmani turchi e arabi che a questo punto si riuniranno uniranno anche le loro forze a differenza di quanto è avvenuto nel corso della prima crociata e quindi quando supereranno i loro dissensi interni che comunque erano abbastanza accentuati come abbiamo spiegato e si organizzeranno e quando troveranno soprattutto come vedremo la prossima volta quando parleremo della seconda della terza crociata un sultano insomma il sultano d'Egitto che sarà in grado di riconquistare Gerusalemme allora le cose cambieranno profondamente i cristiani devono rendersi conto subito che sono comunque circondati da musulmani nel frattempo però ci fu un grande entusiasmo per la conquista della città santa si organizzarono spedizione di rinforzo urbano secondo nel concilio di Roma dell'aprile del 99 come in quello di Bari del 98 esortò i cristiani da correre in Oriente e quindi fu ben contento insomma della conquista di Gerusalemme come abbiamo detto nel luglio di quello stesso 1099 si ebbe una nuova spedizione nel 1100 dobbiamo sapere infatti che le crociate canoniche sono otto ma in realtà ce ne sono state più di otto abbiamo già visto anche la crociata zero cioè la crociata dei pezzenti dei poveri ma già nel 1100 c'è un'altra che non viene conteggiata tra il 1100 e il 1101 ah ecco sì quando arrivarono a Gerusalemme i cristiani occuparono anche quella zona che un tempo era stata quella la spianata del tempio di Gerusalemme del tempio di Salomone in questa spianata c'era una moschea che c'è ancora adesso la moschea di El-Aqsa della roccia perché quello era un luogo sacro anche per i musulmani è un luogo sacro anche per i musulmani i cristiani però ecco non dobbiamo sempre pensarli così anche loro come insensibili e duri e rigidi nei confronti dei musulmani quando poi si stabilizzò questo regno di Gerusalemme permisero agli arabi musulmani di pregare presso questa moschea sul tempio di Gerusalemme questa zona era presidiata da comunque dai cristiani che infatti era essere una chiesa lì dove c'era il tempio di Gerusalemme il re di di Gerusalemme quindi cominciò ad avere dei religiosi lì presso questa chiesa e proprio presso questa chiesa del tempio di Gerusalemme fu istituito un ordine religioso l'ordine dei cavalieri del tempio in realtà questa cosa fu un po' graduale ecco non immediatamente subito dopo la conquista di Gerusalemme è una cosa che si consolidò nella prima metà del 1100 cioè nella prima metà del dodicesimo secolo all'inizio questo tipo di istituzione lasciò tutti quanti un po' perplessi cioè che dei cavalieri fossero anche dei religiosi era un qualche cosa che all'inizio sembrava sinceramente inconcepibile cioè che fossero dei monaci cavalieri molti erano contrari a questa idea avevano sempre visto i monaci come un ordine religioso che non poteva dedicarsi alla guerra mentre invece quelli erano cavalieri che come mestiere facevano i soldati questa impasse che si ebbe appunto nei primi decenni del 1100 si sciolse nel momento in cui prese la parola probabilmente il pensatore cristiano più autorevole dell'epoca che è San Bernard de Clairvaux cioè San Bernardo di Chiaravalle a un certo punto San Bernardo di Chiaravalle come del resto noi abbiamo già spiegato nella lezione sui cavalieri templari i cavalieri ospedalieri i cavalieri di Malta cavalieri teotonici ebbene scrisse l'elogio della nuova cavalleria scrisse un libro intendiamoci San Bernardo era famoso per i libri di teologia era un grande teologo apprezzato amato in tutto l'occidente Dei dirigendo Deo quindi scrisse un libro sulla scelta di Dio quindi la scelta religiosa non parliamo di quanti libri e Inni dedicò a Maria sappiamo come San Bernardo era regato a Maria tant'è vero che ci ritroviamo nell'ultimo canto del paradiso di Dante a intonare una preghiera a Maria vergine madre figlia del tuo figlio per intercedere a favore di Dante ebbene lui scrisse questo elogio della nuova cavalleria e di fatto questo testo sancì da parte del mondo cristiano l'approvazione di questo ordine dei cavalieri del tempio che come abbiamo spiegato appunto in quella lezione raccoglieva fondi per sostenere la difesa anzitutto di questo regno di Gerusalemme che possiamo capirlo appunto da questa cartina ve lo sto dicendo da parecchio tempo subito si accorge di essere circondato da nemici ecco certamente vengono poste delle fortezze in questo regno di Gerusalemme piuttosto che in altri regni ma soprattutto in questo regno di Gerusalemme fortezza di Acri fortezza di Bofò molte sono le battaglie combattute per conservare questo regno i patriarcati il patriarcato di Gerusalemme e di Antiochia ecco stavamo dicendo che poi la vicenda dei templari si dipanò lungo proprio i secoli di gran parte delle crociate fino appunto alla sconfitta e alla presa della fortezza di Acri San Giovanni d'Acri verso la fine del 1200 intorno al 1291 quella sconfitta in un certo senso creò i presupposti per quello che poi avvenne qualche tempo dopo qualche decennio dopo ad opera di Filippo il Bello che condannò a morte i capi dell'ordine dei templari e di fatto portò quindi alla chiusura di questo ordine religioso ma non andiamo troppo avanti ecco anche perché ovviamente continueremo a parlare dei templari anche nelle prossime lezioni sulla seconda la terza cruciata e stavamo parlando quindi di questa piccola crociata del 1100 1101 una nuova spedizione gli italiani furono guidati da Anselmo di Milano non so se è Anselmo da Baggio il famoso arcivescovo di Milano credo di sì comunque i feudatari lombardi forse sono questi i lombardi alla prima crociata cui si riferisce Giuseppe Verdi con la sua opera lirica poi ancora arrivarono cristiani dalla Dalmazia dalla Bulgaria da Costantinopoli ci furono gravi contrasti con l'imperatore Alessio I Comneno attraversarono il Bosforo questi crociati sotto la guida di Stefano di Blois e di Raimondo di Tolosa venuto a cercare l'alleanza bizantina contro i normanni di Antiochia e appresa la notizia vi ricordate che infatti Raimondo di Tolosa già da subito aveva avuto dei contrasti con i normanni che avevano preso il principato di Antiochia appresa la notizia della prigionia di Boemondo cioè del fatto che Boemondo d'Altavilla il normanno il principe normanno di Antiochia era stato fatto prigioniero si proposero di marciare su Sivas e Bagdad giunsero ad Ancira Angora poi furono sconfitti dal sultano di Sivas Ibn Danishmend appoggiati dai sultani di Iconio di Aleppo i superstiti furono costretti a tornare attraverso Sinope fino a Costantinopoli qui nel 1101 morì Anselmo da Milano mentre Guglielmo Conte di Never Guglielmo nono d'Aquitania Guelfo IV di Baviera Stefano di Blois che aveva disertato anni prima della spedizione crociata cercarono di fare anch'essi lo stesso cammino attraverso l'Asia minore ma furono sgominati presso Eraclea solo una piccola parte dei loro uomini riuscì a salvarsi ecco qui eccola qui eccola qui la crociata del 1101 quindi questi principi cristiani che si riuniscono a Costantinopoli poi si dividono alcuni sono sconfitti ad Ancira l'attuale Ancara praticamente fino alla battaglia decisiva contro appunto questo Ibn Danishmend i Danishmendidi quindi sono dei turchi che hanno occupato una zona importante dell'Anatolia e che respingono i crociati del 1101 mentre come abbiamo detto anche i crociati che si erano volti verso Iconio ed Eraclea vengono sgominati questa crociata del 1101 termina in modo disastroso con il massacro di tutti quanti i crociati questo giusto per dirvi che c'era appena stata la vittoria esaltante per i cristiani del 1099 ma due anni dopo ci fu già una prima sconfitta che può essere anche rappresentata come una sorta di preludio delle sconfitte che mano a mano si succedettero in seguito dei cristiani dei vari regni cristiani malgrado le fortezze che come abbiamo visto riempirono furono costruite insomma in questi territori orientali a protezione di questi regni di questi principati che i cristiani avevano costituito si crearono i presupposti per perché incominciasse la reconquista chiamiamolo così dei musulmani però a danno dei cristiani nei decenni seguenti fino ad arrivare addirittura appunto alla caduta di Gerusalemme circa un secolo dopo la sua conquista e a quella di San Giovanni d'Acri ultimo avamposto dei cristiani in Oriente in Medio Oriente circa due secoli dopo bene in che modo Venezia riuscì a non avere più rivali nel commercio con Bisanzio divenne padrona dei traffici lungo l'Adriatico fino ad arrivare all'Egeo e poi come spiegheremo non la prossima volta ma quella dopo ancora almeno se non in realtà la lezione sulla quarta crociata verrà fra tre o quattro cinque lezioni e proprio fu proprio con la quarta crociata che i veneziani che la organizzarono organizzarono la spedizione anche il viaggio proprio loro si impossessarono si può dire delle ricchezze di costantinopoli e quindi monopolizzarono il commercio con Bisanzio dopo la quarta crociata soprattutto non ho capito se Michele VII era l'imperatore di Bisanzio sì Michele VII fu l'imperatore di Bisanzio prima di Alessio I come Neno cioè Michele VII fu il primo che chiese aiuto a Roma si può dire cioè che chiese aiuto a Gregorio VII cioè il Papa di Roma capisci? ecco l'avevo detto prima chiese aiuto a siamo nel 1073 te lo ricordi che l'ho detto prima ecco sì sì certo che era l'imperatore di Bisanzio che differenza passa tra la crociata dei pezzenti disorganizzata dove appunto sono protagonisti dei contadini o comunque povera gente quindi non dotata di tutte quelle armi anche di quelle corazze di quelle armature di quei cavalli che erano necessarie allora o di quelle macchine da guerra d'assedio che erano necessarie allora per sconfiggere i nemici e invece le crociate dei signori che erano dotate di tutti questi mezzi sapete poi soprattutto era devastante la cavalleria cristiana perché erano in grado di squassare proprio i nemici con un impeto tremendo con le loro aste e le loro lance riuscendo quindi in genere a sopravanzare sui cavalieri turchi che invece erano molto molto abili con le frecce grande Luigi Flactobort benissimo ah Melvin Johnson cosa accadde nella valle del Reno nel 1096 ma te l'ho detto distruzione massacri di ebrei quando partirono appunto questi crociati tutti un po' infervorati anche contro gli ebrei non solamente contro i musulmani a quanto pare Vittor Casaveglia grazie mille per i video per i podcast mi ha aiutato moltissimo grazie a te Vittor Casaveglia questa live è da scenaggiare in un copione però bisogna fare tutte le sette crociate eh non ti preoccupare l'ho promesso eh quindi le faremo senz'altro il sultanato e il califato sono due tipi di insomma di organizzazioni chiamiamole così dei musulmani che hanno utilizzato eh nel momento in cui hanno nel momento della loro espansione si tratta sempre diciamo di figure di signori che eh sono a capo diciamo dei musulmani gabridoro il califo era capo era più un capo anche religioso non solo politico anzi originariamente era proprio il capo della comunità islamica una specie di imam no? aveva quindi un'autorità anche religiosa l'emiro è un principe o capo militare quindi parlare di un emirato vuol dire parlare di un principato arabo quindi l'autorità dell'emiro ha un'enfasi militare mentre il sultano è un re quindi il sultanato è una specie di reame arabo con un'autorità tipica di quella del re quindi insomma lo sappiamo anche nell'occidente ci sono tanti tipi di appunto dicevamo regni principati e anche diciamo regni militari insomma ecco così avviene anche presso gli arabi con il califo che è proprio un capo di una comunità anche islamica benissimo andiamo a leggere ancora altre domande dei nostri amici eravamo arrivati a quella di Melvin Johnson grazie mille per il video ah si emirato mai sentito questi termini ecco adesso abbiamo chiarito un po' le idee emirato è un capo arabo che è essenzialmente un capo militare il sultano è un capo arabo che è essenzialmente un re mentre il califo è un capo arabo che è un capo religioso San Bernardo di Chiara Valle Clairvaux si era un teologo non amava molto i filosofi devo dire la verità per esempio San Bernardo ce l'aveva su come un certo Abelardo che è un po' Abelardo è un po' all'origine della scolastica della filosofia tomistica invece Bernardo era un po' più un mistico ma sto parlando di Bernardo di Chiara Valle di Clairvaux mentre Bernardo da Osta detto anche Bernardo di Mentone è vissuto tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo quindi è vissuto tra il 1200 e il 1300 invece Bernardo di Chiara Valle è vissuto diciamo nella prima metà del del dodicesimo secolo quindi nella prima metà del 1100 Simone ha visto anche la mia lezione sulla morte di Leo Conte ovviamente io adoro l'epica e quindi anche abbiamo fatto abbiamo letto in classe persino dei brani della chanson di Roland che come vi stavo spiegando è stata elaborata probabilmente qualche anno prima dell'annuncio della crociata del concilio di Clermont del 1095 no esiste anche un Bernardo da Osta ma è di Mentone viene chiamato anche così perché più di Mentone insomma che non di Aosta mentre Anselmo da Osta lo conosciamo benissimo quello sì un grandissimo filosofo sì infatti esistono sia Anselmo da Osta sia Bernardo da Osta benissimo allora abbiamo anche mi sembra chiarito un po' tutti i nostri dubbi su califo emiro sultano capo religioso capo militare re dei musulmani abbiamo chiarito i nostri dubbi su Bernardo di Chiaravalle che è quello insomma che poi guida Dante nell'ultima parte della Divina Commedia che è il mariologo cioè quello che ha scritto tanto su Maria appassionato della Madonna mistico dediligendo Deo ma anche elogio della nuova cavalleria colui che ha giustificato la creazione dell'ordine dei Cavalieri del Tempio abbiamo chiarito un pochettino gli altri dubbi che c'erano venuti e quindi direi che possiamo darci appuntamento a dopodomani con un bellissimo incontro su Giovanni Boccaccio leggeremo in realtà si tratta di una novella un po' lunga più che altro riassumeremo una novella del Decameron che si chiama Maestro Simone che croce queste crociate no non ho un libro da consigliare sui Templari ha scritto delle cose molto carine sui sui Templari il mio amico Marco Meschini che è un grande storico e quindi semmai ecco vi invito a leggere i suoi libri uno storico medievale alla cattedra di storia medievale all'università di Lugano della Svizzera italiana a Lugano Le crociate di Terra Santa così si intitola il libro del mio amico Marco Meschini se vi devo consigliare un libro vi consiglio questo il libro e il libro Grazie.